Parliamo dell'esofago come via di accesso nell'ambito delle patologie toraciche. Sì, è una novità non recentissima ma una novità la possibilità di documentare la presenza con imaging, cioè con ultrasuoni e con biopsie in controllo reale, in controllo immediato di lesioni presenti a livello del mediastino, quindi di quella struttura che è in mezzo ai due polmoni e che contiene anche il cuore, ma con questo approccio è possibile anche andare nelle regioni sottodiaframmatiche, quindi campionare il fegato, campionare il surrene di sinistra, il rene e così via, o l'infonodi, l'imitrofi e quindi è un approccio utile per fare la diagnosi di tumori polmonari primitivi o di lesioni polmonari primitive quando queste lesioni siano attaccate all'esofago, o di fare uno staging andando a campionare i linfonodi del mediastino, quindi i linfonodi adiacenti alla lesione primitiva o distanti, o anche lesioni metastatiche, per esempio nel surrene di sinistro o a livello del fegato, quindi è un approccio facile da eseguire con pochissime complicanze per il paziente e molto produttivo per la diagnosi. Ci sono vari corsi che si occupano di insegnare questa metodica ai giovani pneumologi e soprattutto l'insegnamento è fatto col metodo learning by doing, cioè si impara facendo, quindi ci sono corsi pratici o anche stage in strutture dove già viene seguita la metodica e anche nei master o nei programmi, nei corsi che anche l'IPO per esempio programma, utilizzare dei simulatori. Quindi c'è un fiorire di insegnamento anche attorno a questa metodica.